Vi ritrovate amici appassionati di calcio in questa nuova guida di analisi di un modulo qui su Football Manager 2020. Nell'ultima live del Laboratorio FM, insieme a voi, insieme alla chat, abbiamo deciso di riprodurre in gioco il modulo e le idee tattiche di Massimiliano Allegri quando appunto allenava la Juventus. Già che ci sono, marchetta personale, vi ricordo che presto tornerà un nuovo Laboratorio FM dove andremo a studiare insieme il modulo che sta utilizzando e che ha utilizzato Carlo Ancelotti con l'Everton, quindi mi raccomando non perdetevi poi quella live. Allegri alla Juve ha vinto tantissimo, Allegri alla Juve ha fatto discutere per alcune sue uscite, come avete visto prima dell'inizio di questo video vi ho riportato un'immagine emblematica di quello che è il pensiero di Allegri riguardo alle tattiche. Lui fa da spettatore, lui diciamo che fa esaltare la qualità dei singoli. E in questo modulo sicuramente c'è molta qualità dei singoli, sicuramente questo modulo va bene, gira bene, solamente con determinate squadre e con determinate giocatori. Alla fine la gran parte dei moduli gira bene se si hanno i giocatori nel punto giusto e che sanno fare quel ruolo in particolare. Però stiamo parlando comunque sia, soprattutto dalla tre quarti in su e anche dire dal centro campo, di giocatori che devono avere proprio determinate caratteristiche, altrimenti non si troveranno bene, altrimenti questo modulo non riuscirà a farvi ottenere determinati risultati. C'è un ruolo in particolare dove un giocatore deve essere effettivamente nella giusta posizione, dove diciamo lì in quel caso i pallini rossi, verdi, possono davvero fare la differenza. Mi sto naturalmente riferendo al fulcro largo, dove senza andare adesso nel dettaglio, poi andremo nello specifico a vedere un attimo quali saranno le istruzioni che abbiamo dato a quel giocatore, deve essere un giocatore fisicamente pronto per fare quel ruolo, non deve essere un giocatore basso, non deve avere colpi di testa bassi, non deve avere massima elevazione bassa, deve essere un giocatore almeno sull'1.80 e che abbia anche comunque sia diversi kg, non deve essere un ciccione clamoroso, però naturalmente ad avere il fisico e poter fare un ruolo del genere, perché per quello che farà in campo servirà davvero che abbia delle qualità fisiche molto molto alte. Naturalmente ognuno ha idee diverse su come era la Juve a quei tempi, la Juve a quei tempi giocava anche con un altro modulo, però diciamo che i migliori risultati e le tante partite fatte da Allegri con la Juve sono state fatte con questo modulo. 4-3-3 largo con una difesa formata da un esterno completo, un difensore centrale che marca puramente, in questo caso Chiellini, un difensore che imposta Bonucci, un terzino fluidificante da dove partono diversi cross, diversi palloni, diciamo che c'è stato lì Cancelo, ma soprattutto poi Quadrado e poi andremo anche lì nello specifico a vedere per bene cosa abbiamo messo. Centrocampo con Matuidi, Pjanic e Chedira, naturalmente li ho messi in ordine come Matuidi, il centrocampista puro di quantità, Pjanic il regista arretrato dove partono tutte le azioni importanti dalla tre quarti in su e Chedira, una sorta di mezzala con compiti centrocampisti di quantità e con compiti anche da incontriste, insomma un centrocampista tutto fare, appunto abbiamo messo il centrocampista centrale con compiti di supporto. La davanti un'ala invertita che può essere tranquillamente di bala, una punta completa che potrebbe tranquillamente essere un Higuaino, un Cristiano Ronaldo e il fulcro largo Marione e Mandzukic perché alla fine è effettivamente con Allegri diventato un fulcro largo. Mentalità positiva dalla tre quarti si deve inventare perché come giusto che sia Allegri ha detto io voglio fare da spettatore, non voglio bloccarvi su una determinata cosa, quindi dalla tre quarti spazio alla qualità dei singoli, si deciderà se dare il pallone in aria, si deciderà se crossare la palla, si deciderà se tirare perché poi tra Bankers c'è l'opportunità per andare a tirare e abbiamo i giocatori per poterlo fare, sicuramente l'ampiezza d'attacco larga con un modulo del genere, con un fulcro largo poi anche permette di giocare effettivamente un pochino più largo, l'imbucata per sfruttare appunto l'inserimento da parte del centrocampista di quantità, la sovrapposizione nel nostro trezzino fluidificante che poi ripeto andremo a vedere nei compiti precisi perché hanno delle sezioni importanti e naturalmente partire palatera dalla difesa perché abbiamo un difensore che imposta da dove possono scaturire azioni davvero molto molto importanti e pericolose. Il discorso di Allegri, esaltare la qualità dei singoli, non tutte le squadre lo possono fare, questi due punti naturalmente sono molto importanti perché o avete i giocatori che sanno saltare l'uomo oppure diventa davvero un problema e rischiate davvero di fare brutte figure perché un giocatore che non sa saltare l'uomo cosa significa? Contropiede assicurato per l'avversario, ripartenza veloce degli avversari, squadra sicuramente sbilanciata e tanti gol che poi andate a subire. La creatività stesso discorso avete giocatori tecnicamente con visione di gioco e con un senza palla alto? Nessun problema, non li avete? Attenzione perché rischiate poi di sbagliare dei passaggi sempre sbilanciati, sempre contropiede, sempre gol che si vanno per l'appunto a subire. In transizione pressi in tutto campo ma attenzione non sarà un pressi in tutto campo incredibile, ci saranno sicuramente le due bari di centro sia difesa che attacco che saranno un pochino più alti ma con intensità di pressing normale diciamo senza andare a forzare troppo anche perché come vedete l'intensità è già alta di per sé quindi è inutile alzarla un po' di più. Per quanto riguarda il portiere noi qui potevamo anche effettivamente decidere di lanciarla lunga, di calciarla lunga per salutare appunto il fulcro però abbiamo deciso sempre di una ripartenza dalla difesa perché comunque sia non mi sembra il caso di complicarci la vita è vero l'attaccante fulcro o comunque il fulcro largo serve anche questa raccogliere i palloni alti soprattutto anche da un possibile rilancio del portiere però abbiamo i difensori che sanno impostare partiamo da loro e facciamo un'azione diciamo tra virgolette un pochino più sicura senza rischiare troppo. Come dicevo qui c'è anche il fate contrasti aggressivi ora questa opzione di recente sta dando alcuni problemi io se volete la tolgo questa è stata un'opzione che abbiamo deciso di inserire però ve la sconsiglio adesso perché con il nuovo aggiornamento se oltretutto andate a mettere ai singoli di fare contrasti più aggressivi c'è il rischio di creare problemi questa io diciamo la lascio di default però voi mi raccomando toglietela fate delle prove se vedete che prendete troppi cartellini gialli toglietela perché effettivamente i contrasti aggressivi adesso sono più puniti dal gioco. Andiamo con le soluzioni dei singoli partendo dal nostro portiere che avrà semplicemente un corri meno rischi qui poi dipende sempre anche lì dalle qualità del vostro portiere noi però per quello che avevamo per la prova che abbiamo fatto con West Ham United dove abbiamo messo corri meno rischi chiaramente sì le idee sono quelle della Juve ma ci siamo anche un pochino rifatti a quello che avevamo però naturalmente abbiamo forzato per mettere più istruzioni che potessero ricordare i giocatori della Juve. L'esterno completo a sinistra in questo caso il nostro Alexandro avrà semplicemente più pressing e poi sarà semplicemente un esterno completo con compiti supporto. A Kanji il nostro Chiellini corri meno rischi perché naturalmente Chiellini non lo si ricorda la Juve come un giocatore bravo con i piedi ma molto più bravo a marcare e semplicemente con compiti di difesa senza andare a fare qualcos'altro. Si potrebbe tranquillamente mettere in marcatura però poi lì dovete mettere poi delle istruzioni sul ruolo preciso da dover marcare mentre invece il ruolo di difensore centrale con compiti di difesa fa un pochino di tutto e quindi diciamo che secondo me è meglio lasciarlo così. Difensore che imposta il nostro Bonucci dribbla di meno, tira di meno, stai più largo perché naturalmente poi quando Quadrado o il Cansello di turno o il Calabria in questo caso di turno salirà perché di default quando si è al possesso sale il terzino fluttificante si va a scalare e si passa non a una difesa 3 ma semplicemente si va a occupare diciamo questa posizione. Ecco se vogliamo dirla tutta qui avremo poi una difesa che ha davvero pochi uomini qua dietro perché un esterno completo che sale, un terzino che sale, un Aldelweireld che va a scalare quindi va a occupare la posizione destra abbiamo praticamente il solo a Kanji o in questo caso il solo chiellini che dovranno cercare di stare atenti. C'è anche da dire che ripeto come detto all'inizio è un modulo dove servono le qualità dei singoli, i terzini o gli esterni devono essere anche molto bravi a rientrare e soprattutto velocemente. Questi sono i compiti del nostro Aldelweireld. Andiamo sul terzino fluttificante perché qui inizia effettivamente ad entrare proprio all'interno della mentalità di Allegri. Il Quadrado, il Cansello di turno deve correre più rischi, deve crossare più spesso ma soprattutto deve crossare sul secondo palo. Perché questo? Perché la Juve di Allegri segnava molto sì con Mandzukic. Mandzukic in inserimento, secondo palo, riceveva il cross dal terzino, gol. E naturalmente qui la andiamo a replicare esattamente. Naturalmente la qualità dei singoli, dribblare di più, tira di meno, stai più largo. Insomma cerchiamo di rendere questo terzino pericolosissimo, tanti assist. Dipenderà molto da lui l'esito diciamo di questo modulo e di queste istruzioni. Centrocampo con quel Chiedira che ha un po' di compiti da mezzala, un po' da centrocampi di sinquantità e anche un po' da incontrista. Libertà di movimento, allargare il gioco come può fare una classica mezzala e il dribblare di più. Questo diciamo che è più mezzala, più mezzala, ma mi raccomando, contrasti devono essere comunque sia importanti, marcatura anche, insomma deve anche avere dei compiti difensivi perché sarà il centrocampo, il centrocampista che si muoverà di più di tutta la squadra perché il regista ha un gioco prevalentemente verticale, centrocampista di quantità puramente verticale. Lui invece sarà colui che si muoverà sicuramente di più. Regista retrato, passaggi diretti, dribble di meno, più pressing. Compito puro da regista che sicuramente da lì partiranno dei palloni interessanti, soprattutto per sultare poi il volo in bucate o eventualmente il movimento dell'alle invertite. Insomma è il ruolo anche questo molto molto importante. Chiave oserei dire perché ci siamo accorti anche ad esempio con una prova che sto facendo su Twitch col Mondialito dove manca il regista di qualità e la squadra va un attimo in confusione, quindi è veramente un ruolo fondamentale. Centrocampista di quantità, tanti tanti gol, preparatevi perché è un giocatore che non solo tirerà di più ma deve anche avere le qualità tecniche, quindi correre più rischi, andare avanti appena possibile. Pressing, quindi anche qui mi raccomando deve avere dei valori per quanto riguarda i contrasti. In questo caso Pulgar andrebbe benissimo in un modulo del genere perché lui contrasti 15, controllo palla, bravo nei passaggi, tecnicamente direi molto bravo, visione di gioco, insomma ha delle capacità davvero molto molto importante, quindi rientra benissimo in questo modulo. Fulcro del gioco largo, non guardate sottile, non lo è assolutamente per le qualità fisiche, ma vediamo un attimo cosa deve fare questo fulcro del gioco largo. Passaggi diretti, il correre più rischi, altrimenti comunque sia non sei poi un fulcro, il fulcro deve comunque avere delle doti tecniche, mentali e fisiche ad altissimi livelli perché è una sorta di non regista largo ma più o meno, perché riceverà diversi palloni e da lui potrebbero partire anche lì azioni molto importanti. Tira di meno, muoversi negli spazi, il tira di meno ragazzi è per non forzargli il tiro ma chiaramente tanti gol farà perché il suo compito è quello poi di inserirsi negli spazi, di puntare poi sul secondo palo e quindi i gol arriveranno comunque ma saranno gol facili, saranno dei tapini, insomma palla che arriva, l'appoggi, i gol, quindi niente di esagerato dovrà fare questo giocatore per quanto riguarda i tiri, muoversi negli spazi appunto per i vari inserimenti, insomma mi raccomando attenzione perché da lì appunto è un ruolo molto molto chiave, molto molto diretto. L'ala invertita, passaggi diretti, il correre più rischi, la libertà di monitorare di giocare più stretto, il più pressing, non abbiamo messo nel tira di più, nel tira di meno. Dovrà sentirsi al giocatore. Ruolo che è forse quello che forse mi convince un pochino di meno perché anche lì abbiamo pensato all'attaccante esterno, abbiamo pensato a un regista largo, abbiamo pensato all'ala invertita, alla fine abbiamo detto senti, alla invertita e per sultare a pieno effettivamente poi la sovrapposizione e il far sì che si vengano a creare gli spazi giusti per Calabria e va benissimo così. Molti potrebbero dire ma attenzione Calabria non potrebbe pestarsi i piedi con il melegoni di turno, con questa sorta di mezzala che allarga il gioco? Diciamo di no perché comunque sia la mezzala giocherà sì largo ma allargerà il gioco, non giocherà lui di default largo e quindi Calabria ha comunque spazio anche perché di default abbiamo ammesso di stare più largo e quindi lo spazio a prescindere ce l'avrà. Passiamo alla punta completa, al Cristiano Ronaldo di turno e all'Iguelin di turno, quindi giocatori che sono devono anche essere bravi comunque nei passaggi, quindi anche qui i passaggi sempre più diretti, il tirare di più perché hanno le doti per poterlo fare e non solo all'interno del rigore ma anche magari da fuori e sicuramente prestare di più. Ripeto, non sarà un pressing esagerato ma sarà comunque sia pressing da parte della nostra tre quarti e soprattutto anche del centrocampista di quantità. Quindi queste sono appunto le istruzioni che ho dato a questo modulo, lo trovate qui nel link sotto in descrizione per poterlo scaricare senza problemi, insomma lo metterò sia nella descrizione e sia nel commento in evidenza in modo tale che tutti possiate vedere effettivamente questo modulo e possiate provarlo. Mi raccomando fatemi sapere i vostri risultati. Ora non vi riporto i risultati, anzi se volete aggiungo magari anche il salvataggio di Olmo che ha testato questo modulo una stagione col touch con il West Ham United dove ha raggiunto un quarto posto in classifica, in una Premier League dove ben sapete non è facile per una squadra come il West Ham United al primo anno raggiungere un posto in Champions League, quindi anche lì significa che comunque sia con tutti i limiti di una squadra come il West Ham United questo modulo comunque sia è riuscito a funzionare e a dimostrare che comunque sia ci riesce a fare il suo dovere. Vi consiglio se volete, molti dicono mister io ho un fulco di gioco sì ma è destro. Cosa dovete fare a questo punto? Dovete invertire alcune cose, chiaramente dovete mettere poi il centrocampista di quantità nella posizione di Melegoni, dovete mettere Melegoni al posto del centrocampista di quantità e dovete andare a invertire l'imbucata a destra e la sovrapposizione a sinistra. Altro cambio che naturalmente dovrete andare a fare sarà l'esterno completo a destra e il terzino fruttificante a sinistra. Creare una sorta di tattica specchiata, specchiata solamente nel ruolo del fulcro, nel ruolo dell'esterno completo e nel ruolo dei due centrocampisti. Poi il resto potete anche diciamo sì, in teoria ci sarebbe anche il difensore che imposta che deve switcharsi con il difensore, in questo caso a Kanji, quindi spostare al delvere a sinistra. Dovete diciamo giocarla così ma è davvero molto semplice, dovete semplicemente invertire i ruoli e specchiare effettivamente questa tattica. Noi in realtà l'abbiamo già fatto ma non ve la posso perché ha ancora dei piccoli difetti e poi non lo so insomma postare due tattiche così potete tranquillamente farlo voi e già che ci siete magari vedete con mano magari meglio determinate istruzioni che ho dato ai giocatori. Nulla a livello di piazzati, non abbiamo fatto in tempo, ci lavoreremo poi su un altro laboratorio per il discorso dei calci piazzati. Fatemi sapere, mi raccomando, come vi sembra questo modulo e noi ci vediamo in un'altra live che andremo a fare con il laboratorio FM con l'Everton di Ancelotti. Un 4-4-2 che poi diventa un 3-5-2 che insomma ne vedremo sicuramente delle belle. Ho visto diversi video, mi sono un attimo studiato l'Everton anche perché già ai tempi con Ancelotti ero curioso, l'avevo visto già in azione quando ancora si giocava e speriamo possa nascere anche lì un qualcosa di interessante. Ciao a tutti ragazzi, alla prossima!